Ricordare per proseguire il titolo della giornata di riflessione che si è svolta il 22 ottobre a Palazzo Lascaris, dedicata alla memoria di Teresa Actis Grosso Ponzetto, già presidente dell'Associazione Amici della Sacra di San Michele, recentemente scomparsa, e al volontariato culturale. Teresa Actis si impegnò per la ristrutturazione dell'edificio, monumento simbolo della Regione Piemonte, in collaborazione con le soprintendenze e per far salire Papa Giovanni Paolo II alla Sacra nel 1991.